E poi li mettiamo giù uno. Quante ne abbiamo usate? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Undici centimetri, undici struttoie. 22 è la creazione. Esoteristi di così si vuole. E poi per andare in una modcia, non eserente. Per i hoi, per i hoi, una pezzi in cui conetti strutt进isci. No, 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 no. No, era spettante. Era un pire, un pire, una creazione di pire. Il cattolone wood. E quando c'è un fire, si non si fanno all'interno, si fanno all'interno. Quindi si fanno come questo, naturalmente. Ma non avevamo le tue le tue le tue. Quindi non avevamo le tue le tue le tue. Non ho capito come si fanno, ma non avevamo il modo. Ma avevamo il modo, non lo so, prima 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 di ultimi. E poi poi i tue belle tue le tue le tue le tue le tue. Ma sono stavolto, e poi è diventata, si quando si è diventato con le tue l'aludio. Ma non avevamo le tue soldi. Si, I don't know how many drums, maybe just one for another village, you know, and that would have its own. That was all we needed. All the tribes in America had drums that I know of. I'm sorry for all that. I can do it. I can do it. Grazie a tutti.